Buongiorno a tutti, rispondo alle domande che mi sono arrivate in merito al nostro secondo incontro. Allora, come faccio a imputare nel report il costo del personale e dell'energia elettrica? Nel report il costo del personale e dell'energia elettrica si imputano in funzione di quella che è la riclassificazione del piano dei conti. Quindi abbiamo detto come si parte dalla contabilità analitica e poi sostanzialmente si fanno tutta quella serie di operazioni in merito anche al rapporto, al raffronto con il budget realizzato però sui costi standard. Ora, non mi ripeto perché sarebbe troppo lungo, però basta un po' rivedere le due lezioni precedenti. Altra domanda, se devo implementare la contabilità industriale in un'impresa che acquista e rivende prodotti, non è prevista la fase di produzione e lavorazione, posso costruire comunque la distinta base di ogni prodotto considerando tutti i costi accessori, per esempio costi di trasporto, eventuali costi di dogana, costi di gestione del magazzino? Bene, allora, se sono direttamente imputabili, siccome io non sono un purista della distinta base, ti dico sì, puoi anche inserirli. Quindi, se non sono direttamente e univocamente imputabili, allora diventa un po' più complicato il discorso. Però nel caso in cui, puoi dire, il costo del trasporto è due centesimi a chilo, tre centesimi a chilo, puoi anche inserirlo. Tecnicamente il trasporto andrebbe in una distinta base, però comunque sia, ripeto, fare i puristi poi porta, non è che ci porta tutti questi vantaggi, bisogna essere un po' più flessibili e cercare, insomma, di adeguarsi alla condizione, soprattutto se si tratta poi di piccole o micro imprese. Ma nelle quantità sommo prodotti diversi? Sono passato alla domanda successiva. Immagino si riferisca al mix volume prezzi o mix volume margini. Le quantità sono fatte da prodotti diversi, ci sono le quantità totali, quindi un passaggio di isolamento nei volumi prende di riferimento quantità di prodotti diversi, sì, il totale. Vado ancora dopo. Se i beni sono stati ammortizzati, non viene indicato il costo di ammortamento. Se i beni sono stati ammortizzati, chiaramente io il costo di ammortamento lo tolgo sia in contabilità industriale e sia in quella che poi di fatto è la contabilità analitica, cioè il piano dei conti riclassificato, quindi contabilità generale vista sotto un'altra ottica, ma pur sempre contabilità di fatti realmente accaduti, trattasi. Quindi tecnicamente se sono stati ammortizzati appunto non deve essere indicato il costo di ammortamento. Abbiamo fatto alcune osservazioni durante il primo incontro sull'opportunità di lasciare anche il costo degli ammortamenti piuttosto che la non coincidenza tra l'ammortamento civilistico e la vita utile del bene, ma vi rimando poi alla lezione numero uno, l'incontro appunto numero uno. Passo alla domanda successiva. Come analizzo gli scostamenti se si tratta di una società di servizi che lavora per commesse? Qui fondamentalmente diventa un po' più complicato perché non avendo una produzione per l'ottio seriale è chiaro che non so di fatto che cosa andrò a produrre e come sarà appunto la commessa. Credo sia un po' più complicato, in questo caso se ho capito bene la domanda diventa un po' più complicato perché non ho proprio idea di come sarà fondamentalmente quel servizio, cioè è un po' l'annoso discorso che riguarda la realizzazione di un budget presso una società che può essere sia di servizi che manufacturing che produce su commessa e che ne so che commessa io andrò a produrre il mese di dicembre 2023, faccio un esempio, 2022, quindi diventa un po' più complicato, diventa un po' sì in effetti un pochettino più complicato non credo si presti bene l'analisi per mix volume e margini nel caso in cui si tratti di lavorazioni su commesse. Domanda successiva, scusate, l'arrivazione di causa relativa alla qualità dei processi produttivi delle materie anacquamento del latte, che era l'esempio che abbiamo portato, è responsabilità del controller? No, il controller a mio avviso deve principalmente evidenziare che ci sia uno scostamento, poi che il controller vada a indagare per capire a cosa è dovuto lo scostamento tanto di guadagnato, voglio dire, sicuramente non solo fa una bella figura, ma può portare comunque dei vantaggi all'azienda seguita. Comunque no, non è un tecnologo, chiaramente non è che è chiamato a capire poi per quale motivo o da che cosa proprio specificamente è di peso lo scostamento. C'è uno scostamento, poi si devono attivare quelle che sono le figure preposte all'interno dell'azienda. Se anche il controller ha la capacità, un po' per curiosità, un po' per esperienza, un po' per voglia di cercare, di mettersi in discussione e quindi cercare, chiaramente affiancato con figure maggiormente tecniche, cercare quella che può essere la natura a questo punto, più che la causa della natura dello scostamento, tanto di guadagnato. Altra domanda, i concetti di effetto, volume, mix e margine, come possono essere rapportati al settore dei servizi, laddove non vi è una quantità di prodotto venduto ma un contratto a canone, e anche qui il discorso potrebbe essere piuttosto complicato. Allora, se parliamo di contratto a canone, magari in funzione di quelli che sono i canoni venduti nel mese, allora tecnicamente lo si può adattare. Cioè ho venduto 10 canoni, 15 canoni, 30 canoni di una tipologia di servizio piuttosto che di un'altra. Ecco, l'unica cosa che mi viene in mente per provare a rapportare il discorso nel settore dei servizi. Altrimenti se c'è un canone o si vendono canoni soltanto all'inizio dell'anno e poi nel corso dei mesi si gode del pagamento del canone, allora in quel caso lì credo non si riesca a trarne appunto beneficio. Ancora, le competenze specifiche per individuare le cause sono molto varie. Come fa il controller a gestire queste conoscenze se il cliente non viene in aiuto fornendo le competenze specifiche mancanti? Eh, il cliente deve venire in aiuto. Il cliente in un progetto di controllo di gestione deve essere innanzitutto non soltanto un cliente pagante ma un cliente coinvolto e che aiuti appunto il controller affiancando adesso delle figure chiave. Ma questo problema qui, questo aspetto viene anche, si presenta già molto più a monte nel senso che a me è capitato di un cliente che magari vuole pagarti, vuole fare controllo di gestione e appena si inizia appunto a prendere i tempi lungo la linea non ti mette a disposizione personale qualificato che ti spieghi appunto come gira il fumo all'interno dei reparti produttivi. È un po' la stessa cosa, è un cliente non coinvolto. Un cliente che magari si aspettava soltanto di avere delle risposte senza poi tra l'altro appunto coinvolgere delle figure chiave di supporto al controller. Quindi è importante che ci siano queste figure. L'ultima domanda, volevo chiedere se il margine di contribuzione sono date, vabbè, dato da ricavi, meno rimanenze, meno costi variabili. Allora il margine di contribuzione è dato dal prezzo di vendita, al prezzo unitario, meno quelli che sono i costi variabili, poi abbiamo anche avuto modo di discutere tra margine di contribuzione di primo e di secondo livello, a seconda che si tratti di un direct costing poi o direct costing evoluto, riferito chiaramente anche alla distinta base, quindi specularmente. Se mi parla di ricavi immagino che sia prezzo di vendita per quantità, quindi nel momento in cui vado a calcolare il margine di contribuzione sul conto economico, io devo prendere in considerazione anche la variazione delle rimanenze, sì, in questo se è quello che sto intendendo, ma credo sia, si tratti di variazione delle rimanenze, quindi se è riferito poi al profitti e perdite, ricavi meno la variazione delle rimanenze, o meglio più o meno la variazione delle rimanenze, meno costi variabili, direi proprio di sì. Bene, vi ringrazio, vi saluto e vi aspetto al prossimo terzo ed ultimo incontro. Ciao!